Approvato in giunta il calendario Giulia 20 e Stato 2018, un calendario ricco di eventi che verrà presentato alla stampa la settimana prossima. Per quanto riguarda le manifestazioni mi preme ricordare che in base ai direttivi nazionali sulla sicurezza bisogna presentare la documentazione necessaria per far sì che l'evento si possa svolgere. Per questo motivo gli uffici stanno invitando i proponenti ad implementare o a presentare documentazione idonea per far sì che gli eventi possano essere svolti. Il Comune in questo caso fa da tramite tra i proponenti e la Prefettura in quanto l'ordine alla sicurezza è competenza provinciale quindi il Comune fa solo da tramite. Ecco per quale motivo noi abbiamo messo già a disposizione e stanno già operando gli uffici a cui va un grande ringraziamento per il lavoro che stanno facendo di richiedere la documentazione necessaria. Questo sì per far sì che non possano saltare le manifestazioni il giorno prima dell'inizio di tale manifestazione. Per questo motivo chiedo ai proponenti di nel più breve lasso di tempo possibile di presentare documentazioni in modo tale che noi come Comune possiamo fare da postino in Prefettura in modo tale da poter avere il tempo materiale per valutare tutte le proposte degli eventi nel calendario giuglio 20. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti